ciao belve per me un bel piacere vi sono qui al mio amatissimo king antenna e sono provarono la rampa i local hanno fatto questa questa è una nuova rampa è alta un'ottantina di centimetri e un nuovo sentiero le prove le abbiamo già fatte ma adesso faremo la prova ufficiale come sempre tenetevi forte perché l'adrenalina scorrerà fiumi ciao belve video prova della rampa bene cari amici dell'enduro estremo questo è la prova ufficiale del nuovo salto del nuovo trail andiamo subito a farlo si passa qui a destra bello andiamo fra anche la killer killer grande come sempre salti eccezionali divertimento assicurato è sempre un'emozione essere qui al king la nuova rampa spinge veramente forte ed è come sempre molto divertente io vi saluto potete venire a provare ma come sempre state attenti perché qui c'è pane per i vostri denti chià